Volevo raccontarvi un caso che abbiamo trattato recentemente. È il caso di un'azienda multinazionale, un general contractor italiano presente in diversi paesi nel mondo, che ci ha coinvolti perché ha deciso di fare una grossa riorganizzazione della sua impresa, passando da un sistema organizzato per paesi nel mondo ad un sistema cosiddetto matriciale, ciò che prevede che alcune funzioni vengano condivise dirette da una direzione centrale, a cui tutti gli altri paesi devono poi rispondere. Questo cambiamento, che doveva essere positivo per l'organizzazione e ne avrebbe tratto grossi vantaggi dal punto di vista economico e dell'efficienza, comportava però uno scontro culturale piuttosto forte, in quanto da sempre, ed è una multinazionale che esiste da tanti anni, ogni area del mondo era stata autonoma, quindi ogni direttore generale che se ne occupava, possedeva grandissime autonomie sia sulle risorse, sia sulle persone che rispondevano a lui nella propria area. Perciò il primo momento di lavoro che abbiamo deciso di fare è stato proprio con i direttori e l'amministratore delegato, in quanto il passaggio culturale più importante era di passare proprio dal io, dalla mia dimensione di autonomia, a un concetto più legato al noi, quindi al bene comune, che avrebbe dovuto guidare l'azienda negli anni a venire. Perciò con il top team siamo andati a Siena e, grazie all'ispirazione del quadro dell'Ambrogio Lorenzetti sul buon governo, i manager hanno potuto riflettere sugli impatti della nuova organizzazione e tracciare un disegno che potesse guidarne l'implementazione. Successivamente questo lavoro è stato esteso a tutti i dirigenti della company nel mondo. Abbiamo coinvolto 300 persone e abbiamo organizzato due convision nella città di Siena. In plenaria l'amministratore delegato ha rappresentato il cambiamento che c'era da fare, ha spiegato i vantaggi della nuova organizzazione, ha spiegato che cosa avrebbe beneficiato l'azienda nel realizzarla e ha chiesto a tutti i manager di poter essere capaci di divulgare le stesse informazioni ai 14 mila collaboratori nel mondo. Una cosa molto positiva è stata la tavola rotonda che abbiamo realizzato subito dopo con i direttori generali. Infatti loro hanno testimoniato positivamente il progetto, già facendo vedere degli esempi in cui questa integrazione si stava realizzando, quindi hanno dato la loro sponsorship positiva al cambiamento. Successivamente il grande gruppo della plenaria è stato suddiviso in tante aule di 15 persone ciascuna e ciascuna aula è stata affidata a un nostro trainer. I nostri trainer hanno lavorato perché tutte le persone avessero compreso bene le linee guida del cambiamento e avessero fatto emergere tutti i dubbi e le perplessità affinché la direzione generale che era presente potesse rispondere e risolvere i quesiti in tempo reale. Poi i partecipanti si sono allenati a quei comportamenti che avrebbero aiutato l'implementazione della matrice. Infatti la matrice richiede per sua natura una più ampia comunicazione e una maggior capacità di negoziare le cose. Richiede di parlarsi per poter decidere insieme le migliori soluzioni a vantaggio di tutta l'organizzazione. E in serata, per chiudere bene questa prima giornata di lavori, siamo andati tutti insieme a vedere l'opera del buon governo ed è stato assolutamente emozionante avere in quella sala 150 manager di così grande sensibilità per riflettere insieme su quali sono i valori di un buon governo e come loro stessi avrebbero potuto rappresentarlo nei diversi territori del mondo. E proprio sul tema dei valori è stata realizzata la seconda giornata. Infatti i manager hanno lavorato per trovare quali valori avrebbero portato l'azienda nel futuro, pur mantenendo solide radici nel passato che li aveva portati fino a qui. L'evento ha avuto un grosso successo non solo perché è stato un momento di comunicazione importante, ma soprattutto per le modalità creative e originali che hanno coinvolto le persone. Sono state toccate da tutti i punti di vista, il punto di vista razionale, con le spiegazioni, l'analisi dei dati, ma anche da un punto di vista emotivo, con l'ispirazione del buon governo e sono state chiamate a lavorare direttamente come protagonisti per indicare le linee guida valoriali del futuro di questa organizzazione. I direttori generali ci hanno detto che le persone tornate sul campo sono state capaci di organizzare molti eventi di comunicazione per coinvolgere a loro volta i collaboratori, fino all'ultima persona. E quello che possiamo dire è che ad oggi la matrice sta funzionando.